La vita è un viaggio La vita è come un viaggio in treno con le sue stazioni, i suoi cambi, i binari, i suoi incidenti Nel nascere saliamo in treno e Ci troviamo con i nostri genitori e crediamo che sempre viaggeranno al nostro fianco, ma in qualche stazione loro scenderanno lasciandoci viaggiare da soli Nello stesso modo nel nostro treno saliranno altre persone significative, i nostri fratelli, amici, figli e anche l'amore della nostra vita Molti scenderanno e lasceranno un vuoto permanente. Altri passeranno inosservati Questo viaggio sarà ricco di gioie, dispiaceri, fantasie, attese e saluti La riuscita di questo viaggio consiste nell'avere una buona relazione con tutti i passeggeri, nel dare il meglio di noi stessi Il grande mistero è che non sappiamo in quale stazione scenderemo, per questo dobbiamo vivere nel migliore dei modi, amare, perdonare, offrire il meglio di noi Così quando arriverà il momento di scendere lasceremo dei bei ricordi agli altri passeggeri Consigli